Benvenuti su Gossip Globe. Prima di iniziare ricorda di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Hilary Blasi è stata esclusa dal programma Mediaset più atteso, portando grande delusione nei suoi fan. Il pubblico era ansioso di vederla condurre, ma le cose sono cambiate all'ultimo momento. Secondo le voci, Hilary sembrava in pole position, ma Mediaset ha deciso diversamente. Hilary Blasi era data per certa alla guida di un programma che tornerà nel 2025. Il sito momag.com ha riportato che Hilary non condurrà il reality show La Talpa. Una fonte ha dichiarato che i vertici Mediaset non le affideranno lo show. Il nome del nuovo conduttore rimane ancora ignoto, ma c'è chi spera in Paola Perego. E tu conosci il programma La Talpa? Se si ti sarebbe piaciuta Hilary come conduttrice? Faccelo sapere nei commenti e ricorda di seguire il canale per restare sempre aggiornato.